Lungo tracce antiche dunque alla scoperta anche di castelli e manieri, tanti e diversi quelli in territorio piacentino, tappe affascinanti di percorsi storici e naturalistici, tasselli fondamentali di un'offerta turistica che ci potrebbe davvero distinguere. Per terre francigene e piacentine la voce del principe Corrado Gonzaga, proprietario del castello di Agazzano. Rappresento il mio castello e i castelli che entreranno in questo club di prodotto. Che al momento quanti sono? Al momento sono tre, quattro, perché continuano ad arrivare. Siamo un po' noi che stiamo un po' fermi per evitare l'ammassamento, un po' troppa confusione. L'ideale sarebbe però creare anche qui una rete di castelli. Non c'è dubbio, ma la rete diciamo che è in fieri, si sta creando da sola. Non c'è bisogno di fare sforzi per mettere insieme qualche cosa che è già insieme. I castelli rappresentano un elemento fondamentale dell'offerta turistica dei territori di Parma e Piacenza, no? Perché ha scelto di aderire a questo progetto? Che cosa ha in più che non c'era già nell'associazione dei castelli? Allora, partiamo dall'inizio, perché l'associazione è nata, non questa, quella dei castelli del Ducato di Parma e Piacenza, è nata da Castelli Aperti, che era nata a Piacenza e di cui facevo parte anche io, io e il conte Orazio Zanardi Landi. Dopodiché siamo emigrati in quel di Parma per rafforzare l'offerta ed è diventata Castelli di Parma e Piacenza. Dopodiché va benissimo tutto questo, però secondo me Piacenza rimaneva un po' isolata, aveva poche opportunità ed è un territorio diverso da Parma. Parma ha già una sua struttura turistica che Piacenza non ha, almeno io non la conosco. Per troppi anni Piacenza è rimasta ai margini di tutto, cioè ai margini della Lombardia, perché Piacenza dov'è? In Lombardia, in Emilia, in Liguria. Eh, siamo un territorio di passaggio. No, non so, la via non è polemica, ma è per dire che tutto sommato, non sapendo loro stessi dove sono, non possono dire venite da noi dove. Ecco, allora questo è quello che sta offrendo come opportunità la via francigena, perché finalmente si è creando un fortissimo legame tra le varie realtà del territorio e questo legame deve per forza andare bene, perché c'è dentro di tutto il club di prodotto, non è un qualche cosa di astratto, è quello che mette insieme le varie realtà del territorio. Si tratta soltanto di scoprirle e farle scoprire. Pensando al turismo dei castelli, che cosa offrite e che cosa vi serve per essere visibili, appunto per essere appetibili al mercato del turismo? Allora, per i castelli ci vuole qualche d'uno che vada a prendere il turista, perché il turista da solo non viene. Piacenza, come dicevo prima, è rimasta isolata. Noi abbiamo dei musei bellissimi in città, però sono poco visibili. Forse il più bello è l'Alberoni, ma non è così disponibile alle visite. Io credo che un richiamo importante come Antonello da Messina, non lo so chi ce l'ha, ce l'ha l'Alberoni. Quindi, voglio dire, Piacenza ha delle offerte notevoli. La Ricci Oddi è un altro museo di grossissimo richiamo per quanto riguarda il Novecento, il primo Novecento fino all'Ottocento. Ecco, voglio dire, non è che Piacenza non abbia. Anche i castelli soffrono un po' di questa ombra. I castelli sono un po' sclerotizzati, perché non hanno l'opportunità di fare qualche cosa che riguardi la loro storia. Magari fanno delle altre cose. In realtà, secondo me, non è vero che la cultura non dà da mangiare. La cultura dà da mangiare come? Intanto comincia ad andare da mangiare al cervello, che non è poco. E quindi poi dopo, oltre al cervello, dà da mangiare anche a chi si occupa di turismo. L'Italia per troppo tempo si è dimenticata dell'agricoltura e del turismo. Sono due eccellenze, una che va nell'enogastronomia o nella gastronomia e l'altra che va invece nella conoscenza di quello che abbiamo e che tutti ci invidiano. Ma noi non siamo in grado di farlo conoscere al visitatore perché non c'è il visitatore. Principe, verremo a trovarla e conosceremo meglio le caratteristiche del suo castello. Un turismo che arriva a visitare un castello, che cosa si aspetta? Beh, è un discorso molto difficile. Noi abbiamo molte differenze tra un castello e l'altro castello. Perché ognuno ha scelto una strada. Quindi si presentano in modo diverso. C'è il castello ammobiliato, ammobiliato bene. C'è il castello ammobiliato male. C'è il castello che è sempre stato in proprietà della stessa famiglia. Il nostro castello, che è il castello Anguissola, Scotti e Gonzaga, è un castello che dal 1100 è sempre rimasto in casa. Ha avuto solo un piccolissimo periodo, nel 1400, che era passato agli Arcelli, ma era passato per 50 anni. Poi sono ritornato agli Scotti. Quindi, voglio dire, è un castello vissuto, con tanti problemi, ma non ha avuto tante trasformazioni. Percorsi da seguire in bicicletta, a piedi e a cavallo. Itinerari per entrare nel cuore del nostro territorio, divertendosi e facendo sport. Per terre francigene e piacentine e dell'Emilia, anche una rete di alberghi e ristoranti pronti a mettersi in gioco. E un progetto di comunicazione è mirato. Collaboriamo con il dottor Cattani dall'inizio di questo progetto, proprio dagli albori, da 3-4 anni fa, quando le prime vie erano setracciate da Don Ponzini. Erano 3, poi sono diventate 6 tutte. All'inizio il progetto era molto più piccolo, poi pian piano si è espanso. Oggi ci occupiamo, ci dovremo occupare, ci stiamo occupando di tutto quello che riguarda la comunicazione multimediale. Già esiste un'app che abbiamo costruito, è in rete da circa 6 mesi, che si chiama Via Francigene-Piacentine o Via Francigene di Montagna. Può essere scaricata gratuitamente su tutti gli smartphone Apple e Android, solo smartphone, dove ci sono tracciate tutte le vie, sotto il punto di vista dei percorsi, sotto il punto di vista di tutte le eccellenze che ci sono, dal punto di vista storico, culturale e religioso. Questo è già il primo strumento che è nato negli anni scorsi da questa collaborazione, da questa immane come lavoro è stato, perché puoi ben capire che recuperare tutti i dati su tutte le 6 vie che permano completamente la provincia, quindi vanno dalla Valtidone, da Castel San Giovanni, il punto più a ovest, fino a Castellarquato, Vernasca, la parte più vicina alla provincia di Parma, per intenderci. Oggi ci stiamo occupando della comunicazione diretta e indiretta, della promo-commercializzazione di tutto quello che il club sta tentando di offrire sotto il punto di vista turistico. Quindi sta nascendo questo portale, che si chiamerà I Like Piacenza, esiste già ilikepiacenza.it, per ora è un coming soon, se volete lo potete trovare in rete, dove nei prossimi mesi comincerà a raccogliere le informazioni necessarie, che sono informazioni di tipo emotivo, di tipo experience, come si dice adesso, per cui avremo contenuti multimediali, da filmati, fotografie, raccolte storiche, tutte le cose che riguardano i castelli, piuttosto che la storia del nostro territorio e anche tutte le eccellenze che sono dell'accoglienza, della struttura sportiva e tutto quello che riguarda i 60 e più, che sono in aumento soci del club di prodotto stesso. Chi sceglierà questi itinerari, i piacentini o su Parma, magari lo farà a tratto dalla storia, ma anche a tratto dalla possibilità di andare in bicicletta, di fare passeggiata a piedi o a cavallo, dunque anche questo aspetto ha avuto grande attenzione. Sì, devo dire che è stata da parte dell'Associazione Terra Francigene attenzione a percorsi sia in bicicletta e a piedi, ma soprattutto in bicicletta e mountain bike, essendo mio occupato da anni dello studio di percorsi, della promozione di percorsi con la WISPA cicloturismo a Piacenza, in prima battuta, avendo promosso percorso all'interno di vari comuni, Travo, Vigolzone, Ponte dell'Olio, Podenzano, recentemente con quelle che stanno nascendo come associazioni di comuni, le unioni dei comuni e anche il comune di Piacenza. Quindi è stata una passione che ho avuto io di studiare percorsi per il cicloturismo e monta bike, che si è poi realizzata con la realizzazione di cartine e schede con cartina in roadbook ad uso del cicloturista, cartine che nel formato PDF sono andate ad arricchire i siti dei comuni, in questo modo ha disburzone nel sito del comune cartine che tutti possono scaricare liberamente e poi noi abbiamo messo a disposizione delle bustine che servono a proteggere questi documenti ai fini della sostitutiva e della plastificazione, quindi è uno strumento che questo è molto utile. Dunque chi sceglierà i pacchetti turistici legati appunto a questi itinerari, alle terre francigene, avrà la possibilità anche di avere indicazioni precise per poi fare sport, attività all'aria aperta, no? Sì, quindi noi daremo a terre francigene tutto questo materiale che è stato fatto per questi comuni. Io tengo i contatti con tante altre associazioni da Bobbio alla Valtidone, nel territorio piacentino con amici, associazioni che promuovono il territorio in mountain bike in particolare, io non posso conoscere tutto il territorio, ma ci sono amici che più di me è in montagna, conoscono il territorio e possono collaborare con l'associazione e io penso di fare la unione con queste associazioni. Terra francigene sta lavorando poi di percorsi specifici, in questo caso ad hoc per il cicloturismo su strada, che tocchino alcune realtà dei paesi e dei borghi più interessanti della provincia di Piacenza e questo è uno studio recente che faremo in questo periodo. In questo progetto anche gli alberghi avranno un ruolo nuovo, diverso, più ricco, diciamo, dei servizi. Sì, sicuramente è la prima volta che noi hotel abbiamo l'opportunità di avere un diretto collegamento con tutte le realtà del territorio, che possono essere appunti, castelli, le aziende vitivinicoli e quindi diventare punto di informazione e di propaganda del materiale e di tutte le varie attività che il nostro territorio può offrire. Noi albergatori abbiamo sempre cercato magari di, andando all'OIAT, di avere qualche brochure, qualche informazione sul territorio, ma mai come adesso, appunto collaborando direttamente, questa diventa un'opportunità concreta. Visto purtroppo le esperienze fallimentari precedenti, questa volta siamo molto fiduciosi nella sinergia che si sta creando tra tutte le strutture che hanno deciso di aderire, che effettivamente stanno dando una mano al Presidente e a tutto il gruppo per creare un'organizzazione, per creare effettivamente un effetto nella realtà cittadina di commercializzazione del territorio, un ottenimento di informative per il cliente che sicuramente danno la possibilità a tutti quanti, speriamo, di avere una piacevole sorpresa al territorio piacentino. Un vantaggio per voi, questo fare rete, questo fare squadra, ma anche per il cliente che a questo punto si troverà qualcosa di molto più organizzato? Decisamente sì, nel senso che avrà la possibilità all'interno anche delle strutture di avere tutte le informazioni che riguardano tutte le persone associate e iscritte al club, di avere la possibilità di verificare, toccare con mano tutto quanto gli può essere dato, di usufruire di pacchetti quindi per poter conoscere a pieno quello che è il territorio e di avere la possibilità quindi di furire effettivamente di tutto quanto abbiamo a disposizione che adesso essendo così variegato il cliente in realtà non ha la possibilità di sapere neanche che può fare qualcosa in questo modo e invece ha la possibilità nel punto di informazione all'interno delle strutture di sapere esattamente che cosa può avere e cosa può fare al meglio delle nostre possibilità, insomma al meglio di quello che il territorio offre e quindi anche uno stimolo secondo me per il territorio per incrementare e dare sempre un maggior servizio sempre di miglior qualità. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!